salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della serie di minecraft siamo all'episodio 101 se non vado errato allora prima di passare a tutte le info quello che faremo in questo episodio vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace al video commentare condividere se lo volete ma soprattutto cosa importantissima attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video allora prima di tutto mi scuso per il fatto che minecraft non esce così tanto regolarmente in questo periodo complici le ferie e il computer che sta andando sempre di più di matto sì lo so ragazzi continuo a dirlo ogni episodio però non non ne vengo fuori sebbene adesso stia tentando di assemblarmi un computer nuovo quindi qualora vedrete degli immigionamenti straordinari nella serie di minecraft dovuto il computer nuovo se quando arriverà spero va bene allora bando alle ciance come potete vedere qui ci sono delle altre novità ma ve le dico tra poco perché voglio prima dirvi e spero vi sia piaciuto l'ultimo episodio gli ultimi due tre episodi spero vi siano piaciuti per quello che ho tentato di fare portare qualcosa di nuovo nella serie qualcosa di diverso che possa dare un pizzico o quel qualcosa in più insomma spero vi abbia fatto piacere e ho diversi progetti collegati al nostro fantomatico dottore che è arrivato qui col suo enorme tardis e niente li vedremo li scopriremo nel mentre insomma nel progredire della serie allora ho fatto un po di esplorazione e ho recuperato le berries eccole qui le recuperiamo anche così le mettiamo via e anche i mi sfuggono il bambù sono andato Nella foresta Nella jungle forest Che c'è di là Nella foresta della giungla che ho lì a fianco Tra l'altro è anche molto vicina Ho detto speriamo di riuscire a trovare qualcosa Insomma io speravo in una bamboo forest Direttamente con Anki Panda Quella dovrò cercare tanto di più Perché è rara Comunque Credevo di averla generata tutta Invece andando avanti La giungla è enorme E sono riuscito a generare I nuovi chunk Dove ha potuto spawnare Il bambù Inoltre tornando indietro Di lato sono riuscito anche a generare Degli altri chunk nuovi Della taiga mi pare Dove ho trovato delle berries Pochissime ovviamente Però dopo le ho piantate e le ho fatte riprodurre Sotto qui non si vede O si vede poco Per chi è così Avezzo Nella guzzala vista C'è un'altra farm lì sotto Perché ho stravolto un pochino Questo pezzo qui Volevo mettere tutte le farm Infatti io forse ho ancora la sensazione Che manchino delle farm Di Di cibo Di vegetazione Insomma di queste cose qui Da far crescere Però ora mi sfugge Allora Facciamo così Anzi andiamo prima di sotto Ho allargato Questa zona Di coltivazione Della nether Come chiamo Delle verruche E Solo perché Se no mi faceva schifo Vedere un pezzo tagliato Dell'altra farm Qua a fianco E anche in realtà Mi servono Parecchie verruche Vorrei utilizzare I blocchi Che ne derivano Per qualche costruzione Magari Vediamo anche Di ripiantarle Così ci siamo Qui a fianco Invece ho messo La farm Come vedete qua È di Lecalf farm Lo si chiama Non è automatica Anche questo è tutto manuale Poi faremo anche Tutte quelle automatiche Non vi preoccupate Con calma Dico che faremo Ma Faremo O le farò Off camera Insomma Visto che Non ci si riesce A quanto pare A reccare Ci ho messo Un'ora Per riuscire Ad avviare Minecraft Correttamente E il programma Di registrazione Che è OBS È stato Alquanto Terribile Allora Queste basta Fare così Sono già arrivato In fondo Ho dovuto spostare Anche Lo smistamento Qui Vedete Queste vanno su E si raccolgono Dal piano superiore In questa maniera Qui Eccoci qua Si passa qui E si raccolgono Tutte Perfetto È anche piuttosto Comodo In realtà Qui Ho messo Sulle item frame Le nuove Coltivazioni Da fare C'è che ho fatto Perché Di sotto Non c'è Lo spazio Per smistarle In automatico Come si fa Con tutto il resto Anche qua I chorus fruit Li ho farmati Però non li ho farmati Qui Sapete che Oddio Dove sto andando Questi qua Li ho messi E li ho lasciati Lì per bellezza Perché Se ero un po' quelli Dopo è un casino Vabbè Li vado a farmare Di solito O in un altro Posticino O direttamente Nelle isole Del land Dove Disbosco tutto E me ne frego Altamente Del paesaggio Poi E questo è un progress Che abbiamo fatto Un altro progress Che ho fatto E' stato lì sotto Che ho terminato Quella zona Dove doveva esserci La sauna O comunque Una zona un po' relax Che è quella qui Qui ho messo questi lettini Col quarzo Quello nuovo Quello liscio Se non mi sbaglio Mentre anche qui Ho arredato Con alcuni dei blocchi nuovi Ovvero Il campfire sotto Che dà questo bellissimo effetto Di acqua calda E l'ho messo anche qui Che è il vapore E ho sostituito La lava Con il blocco Di Di coso Di magma Che è molto carino E ci sta molto bene Ehm Non mi pare di aver fatto Altre Altre cose Degne di nota Aspettate Do un'occhiata Alla mappa Magari Mi viene in mente Qualcosa Guardandola Sani su di qua Allora Vediamo un po' Anzi Avviciniamo così Ah ecco Possiamo usare questi Sono riuscito a fare anche le impalcature Adesso che ho il bambù Direi che possiamo utilizzarle No siamo andati un po' No siamo andati un po' in alto Ma non importa Ok questa altezza va bene Quindi quelli in alto Li togliamo Allora Vediamo un po' Sulla mappa Sulla mappa Non c'è niente Di particolare Di nuovo E non mi viene in mente Nient'altro Allora Come sapete Ho un sacco di cose Che vorrei fare E adesso Speriamo di riuscire a farle Ah si Ecco Mi è appena venuto in mente Qualcosa Che ho fatto Si 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 Che ho aggiornato Ho spostato Il lama Del Villager Girovago Mercante Come vogliamo chiamarlo Anche perchè non mi ricordo Il nome esatto E l'ho spostato Gli ho spostati qui sotto E li ho fatti riprodurre Ulteriormente Con gli altri lama Aspettate che entro No No Chiudi Con mia grande sorpresa I piccoli di lama Sono tutti con Cioè quelli che accoppio Con i lama Viaggiatori Sono tutti con Questo motivetto qua Carinissimo Addosso Mentre Vedete Che non c'è tappettino Non c'è niente E hanno direttamente questo Adesso qua Devo andare avanti A farli Moltiplicare E poi metterli Nel Oddio Ah Ah Per poi metterli qui Nei loro recinti E preparare altri tre recinti Qui in fondo Perchè ne mancano tre Di spazi Non mi ricordo quali Ho montato questi ultimi lama E ci ho messo tappettino E cassa Se in realtà Non sono massa sicuro Della cassa Sinceramente Perchè Boh Non lo so Qua non è ancora finito Perchè poi Ci vanno tutti i banner Così in alto Ma diciamo che siamo A un buon punto Insomma Ecco E niente Questi sono i progressi Che sono stati fatti Che ho fatto E probabilmente Adesso Riuscirò a fare Qualcos'altro Prima di Rendere disponibile Il mondo Si ragazzi Perchè Abbiamo raggiunto Una cifra Considerevole Più di cento episodi Ormai Della serie E volevo rendere Nuovamente disponibile Il mio mondo Per il download In modo che Chiunque volesse Possa girarselo Guardarselo E giocarselo Magari Insomma Credo sia Una cosa carina Da fare Lasciarvelo Che possiate Farci un po' Quello che volete Insomma Anche Da parte mia Ad esempio Quando vedo Alcuni mondi Bellissimi Anche di youtuber Eccetera Che fanno le serie Vorrei tanto Che lasciassero Il download Dalla mappa Qualcuno lo fa Qualcun altro Non lo fa E mi dispiace Perchè sono fighi Insomma Quei mondi Meritano Di essere Condivisi Secondo me E Sono venuto Qui dentro Perchè E' notte Niente ragazzi Per questo video E' nuovamente Tutto Vi ringrazio Per la visione Commentate Condividete E iscrivetevi Al canale Se ancora Non l'avete fatto E fate un salto Anche su tutti Gli altri miei video Ciao Ciao